Siamo con Claudio Campagnoli, Sales Manager di Subito.it. Subito.it in questi tre anni è in costante crescita di quanto parliamo e i segreti di questo successo. Non ci sono segreti, c'è tanta buona volontà e tanta dedizione. Di che numeri parliamo? Abbiamo sostanzialmente compiuto tre anni da quando abbiamo lanciato questa business unit di advertising. Abbiamo chiuso un 2014 in forte crescita, direi un 50% di crescita anno su anno, che mi rende molto contento anche considerando il fatto che il 2014 non è stato un anno particolarmente semplice anche per il mercato dell'advertising digitale. Uno degli obiettivi che abbiamo per quest'anno è quello di continuare a crescere, cercando di consolidare quanto più possibile questi trend. Non sarà facile, per fortuna stiamo costruendo una squadra dei professionisti che mi darà una mano e darà una mano subito a continuare ad essere un player di riferimento nel settore. Le nuove frontiere dell'advertising che Subito.it cerca di diffondere, di promuovere e sviluppare, quali sono? Le nostre frontiere sono sicuramente quello di continuare a innovare per quanto riguarda il canale dedicato più che altro alla comunicazione nazionale, ma avendo noi un business che definiamo Glocal, quindi ad alti numeri da un punto di vista nazionale, ma anche con una forte connotazione e penetrazione locale, quello di affiancare appunto alla nostra business unit nazionale anche una forte attività sulle piccole e medie imprese, perché subito è una piattaforma di compravendita, subito è un DNA locale, fa business per le piccole e medie imprese che ci chiedono visibilità e quindi stiamo lavorando per definire delle aspetti di visibilità che per loro siano assolutamente in linea con le loro necessità di comunicazione. In questo senso l'acquisizione di DotaDV che cosa comporta e come intendete svilupparla? Noi abbiamo fortemente un DNA tecnologico, l'acquisizione di DotaDV è quella di andare a inserire una connotazione fortemente tecnologica anche nel mondo delle PMI, lavoreremo durante quest'anno per la completa integrazione della piattaforma, per la sua amalgava all'interno delle nostre politiche commerciali, il nostro processo di vendita, l'obiettivo è quello di andare sempre di più a lavorare in sinergia tra i canali per rendere anche più facile la vita con le PMI che ancora hanno bisogno di comprendere il mezzo digitale. Noi come DNA abbiamo la semplicità e la velocità e vogliamo trasmetterlo anche a tutte le aziende che vogliono investire su subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.